Ciao, io sono Luca, ho 34 anni e di lavoro faccio un infermiere. Ho scelto questa professione perché già all'università mi ero trovato male con gli studi di giurisprudenza e mi sono laureato, ho affrontato un master nella critica, sto finendo la magistrale, quindi sono molto impegnato, come hai capito, in tanti settori. La mia passione è il musical, infatti sto studiando downstage a Milano insieme ai miei compagni e cercherò di portare in Cannes TV sicuramente tanta gioia, tanta felicità, come puoi vedere dal mio sorriso. Sicuramente anche tanta buona musica e tanto buoni musical, visto che purtroppo questo mondo è sempre un po' lasciato, un po' a parte. E sicuramente anche un po' di qualcosa in ambito sanitario, se vi può interessare, ma sicuramente interesserà perché tante cose sono un po' lasciate così, ancora da toccare, tanti argomenti sono da ritoccare. Per cui io vi aspetto sulla pagina, sul canale e viva Cannes TV!